Dopo il blocco di Trump su Facebook e Twitter ho fatto un sondaggio sui miei social e ho scoperto che il 35% dei miei follower ritiene che i social abbiano censurato la libertà di espressione del presidente americano, per cui è utile fare chiarezza con alcune brevi considerazioni. La prima, i social network sono piattaforme private, sono create e gestite da aziende totalmente private che nascono con l'obiettivo di offrire un servizio al mercato e generare profitto dagli utenti che lo utilizzano. Quando vi iscrivete ad un social network siete obbligati a compiere un'azione quasi sempre sottovalutata, che è accettare i termini e le condizioni di utilizzo. Spuntando quella casella, voi state sottoscrivendo un vero e proprio contratto con l'azienda proprietaria del social network, che è valido sotto ogni punto di vista legale e con cui, per poter utilizzare la piattaforma, vi impegnate 1 ad accettare tutte le condizioni, come ad esempio cedere i vostri dati e ricevere pubblicità profilata, e 2 a rispettare le regole che l'azienda ha scelto per la propria piattaforma. Inoltre, questo contratto prevede che l'utente possa essere sospeso o espulso in qualsiasi momento e a insindacabile giudizio dell'azienda se questa ritiene che l'utente abbia violato qualsiasi sua regola. Queste clause sono uguali per tutti gli utenti e non sono negoziabili, per cui se state ascoltando questo video vuol dire che avete firmato quel contratto. Questa è quindi la prima differenza sostanziale. Censurare la libertà di espressione vuol dire che qualcuno ha il potere di impedirvi di esprimere il vostro pensiero perché non lo condivide. Bloccarvi da una piattaforma privata, invece, vuol dire che per usare quel servizio avete firmato un contratto obbligandovi a rispettare delle regole, non le avete rispettate e quindi il proprietario è deciso di non darvi più accesso al suo servizio. Punto numero 2. I social network non sono editori. Le testate giornalistiche, i network televisivi e gli altri editori hanno una propria linea editoriale, scelgono gli argomenti da trattare e le notizie invece da escludere, valutano le opinioni e le posizioni politiche da prendere e approvano tutti gli articoli dei propri giornalisti prima di pubblicarli, in quanto anche l'editore è responsabile legalmente di ogni contenuto pubblicato insieme all'autore. I social network invece specificano chiaramente che non hanno una linea editoriale, non scelgono gli argomenti e non approvano i post scritti dagli utenti, per cui non sono in alcun modo associate ai contenuti e ogni responsabilità ricade esclusivamente sull'utente che l'ha pubblicato. Punto numero 3. Politici e influencer hanno una maggiore responsabilità sui social media. Come già avviene nel reato di diffamazione, le conseguenze e i danni prodotti dalle fake news o da un'incitazione alla violenza sono proporzionali all'autorevolezza di chi scrive e alla visibilità che raggiunge. Se sul mio profilo Instagram ad esempio dico che bere la candeggina vi fa guarire dal covid, il mio messaggio raggiungerà migliaia di utenti e alcuni di questi potrebbero davvero credermi, mentre se a dirlo è il presidente degli Stati Uniti lo leggeranno 100 milioni di persone nel mondo e tantissime si fideranno delle indicazioni di un capo di Stato. Per questo motivo politici, influencer, personaggi pubblici e chiunque abbia una carica istituzionale ha una responsabilità maggiore rispetto ad un comune cittadino. Dunque, il blocco di Trump non ha niente a che fare con la libertà di espressione, ma solamente con la violazione di un contratto che Trump ha firmato con un'azienda privata. E per gli stessi motivi e sulla base di condizioni di utilizzo simili a quelle di Facebook e Twitter, anche YouTube, TikTok, Shopify, Twitch, Reddit, Instagram, Pinterest e tante altre piattaforme hanno sospeso gli account di Trump e dei suoi sostenitori. Chiarito quindi questo, c'è però un quarto punto da sottolineare, e cioè che i social network sono incoerenti, ipocriti e opportunisti. Se le piattaforme infatti appartengono ad aziende private a scopo di lucro, allora il loro obiettivo dichiarato è fare scelte e azioni allo scopo di aumentare i profitti. E i contenuti creati da estremisti e complottisti sono quelli che generano più profitto perché creano più interazione e dibattito e dunque più dati da raccogliere e più click sulle inserzioni pubblicitarie. Non a caso nei ultimi dieci anni è proprio su Facebook e Twitter che tutti questi movimenti sono cresciuti grazie a migliaia di account, gruppi e pagine che hanno alimentato odio, disinformazione, teorie antiscientifiche e aggressioni mediatiche. Inoltre, perché hanno bloccato Trump solo ora, a 15 giorni dalla fine del suo mandato, se anche in passato ha sempre violato le policy? Twitter per anni ha favorito Trump, inserendolo tra i utenti suggeriti anche mentre diffondeva fake news e cercando ogni volta delle spiegazioni contorte. A questo punto quindi il dubbio è lecito perché secondo campaign tracker per l'ultima campagna elettorale Trump ha speso 287 milioni di dollari in pubblicità sui social di cui 160 milioni di dollari solo su Facebook. Quindi ora gli ultimi post di Trump sicuramente sono diventati pericolosi, ma un'azienda privata quando prende queste decisioni fa anche un'altra valutazione, cioè che semplicemente oggi Trump non è più un buon cliente, sta perdendo il suo potere e non spenderà più centinaia di milioni di dollari, per cui rimuoverlo ora fa guadagnare di più rispetto a quanto fa perdere alle aziende in pubblicità. In conclusione, i social che hanno bloccato Trump sono oggi tra i principali responsabili del clima d'odio, della disinformazione e della tensione che stiamo vivendo in Italia e nel resto del mondo. D'altronde, se fossero sempre stati attenti e severi nel rispetto delle proprie regole probabilmente non sarebbero cresciuti così tanto e gli utenti negli anni avrebbero scelto altre piattaforme alternative facendogli quindi perdere il controllo del mercato. La sospensione di Trump solleva quindi alcuni interrogativi che prima o poi dovremo affrontare, perché dovremo ripensare completamente la regolamentazione dei social media e imporre maggiore trasparenza ed equilibrio nel rapporto che hanno con gli utenti e quindi decisioni non più unilaterali e insindacabili da parte delle aziende e magari un maggiore controllo del loro operato anche da parte delle istituzioni, perché in questi anni i social hanno costruito le loro piattaforme per convincerci ad usarle come uno strumento democratico, come una piazza pubblica in cui siamo liberi di esprimerci nel rispetto della legge, ma la realtà è che abbiamo spostato la nostra intera vita nel salotto privato di qualcuno che ci spia e ci usa e fa miliardi sulle nostre chiacchierate ma che in qualsiasi momento può decidere di cacciarci da casa sua e tagliarci quindi fuori dal mondo.